Dei 250 e passa mila cinesi che sono presenti sul territorio nazionale italiano, oggi la maggior parte vive nel centro e nord Italia, ma di fatto l'imprenditoria cinese, le imprese cinesi sono diffuse un po' su tutto il territorio nazionale. Abbiamo avuto per esempio negli ultimi 5-6 anni una crescita molto forte nelle regioni del sud. Quando parliamo di imprese che si trasferiscono su un territorio diciamo così vergine, in cui non sono ancora presenti delle realtà cinesi corpose in termini di numeri, è chiaro che tutto l'indotto delle imprese gestite da cinesi e tutto quel tessuto di imprese che forniscono beni e servizi diventa necessariamente autoctono. Ecco perché per delle imprese italiane che vogliano fornire servizi di vario genere alle imprese cinesi gestite da imprenditori cinesi sul loro territorio, e qui parliamo proprio di ogni genere di servizio dall'imbianchino all'elettricista, al meccanico, persone che devono in qualche modo consentire a questa persona di fare meglio il proprio mestiere, possono avvantaggiarsi del fatto di avere sul proprio territorio o nelle proprie adiacenze un'impresa cinese. Da questo punto di vista le imprese cinesi sono delle vere e proprie dinamo di sviluppo economico e sociale sul territorio. È importante capire che questo ha delle implicazioni di tutto rispetto, anche rispetto a settori che magari non stanno ancora intercettando tutta l'importanza di questo fenomeno. Pensiamo per esempio all'importanza delle crescenti masse di turisti che ogni anno scelgono i paesi europei per le proprie vacanze, di turisti cinesi. Sono circa 50 mila l'anno e si stima a livello globale che i flussi internazionali saranno movimentati per il 18% da turisti cinesi nell'immediato futuro. Da questo punto di vista l'Italia è ancora molto impreparata, ma noi che abbiamo un'infrastruttura turistica tutto sommato assai rilevante dovremmo tenerne conto. Ancora una volta imprenditori cinesi del settore turistico potrebbero interfacciarsi molto bene con imprese italiane del medesimo settore, proprio per riuscire a intercettare al meglio queste importanti opportunità di sviluppo per il nostro paese.